Non c'è modo di prevenire la meningite. La meningite si prende respirando da uno che è portatore sano di quel germe. Pertanto l'unico modo che veramente è utile per la prevenzione è soltanto la vaccinazione. Quindi se noi siamo vaccinati abbiamo degli anticorpi che ci difenderanno da quel batterio quando il batterio entrerà. Quello è l'unico modo di prevenire, non ci sono altri sistemi. I vaccini fortunatamente ne abbiamo tanti e servono per proteggerci contro il maggior numero di meningiti. Ne abbiamo contro i meningococchi, B, C, A, ne abbiamo contro l'opnemococco, tanti sierotipi. Utilizzarli sicuramente ci dà una copertura molto importante, non la certezza di non prendere la meningite ma su una grande probabilità. I vaccini per la meningite non fanno assolutamente male, sono tutti vaccini uccisi e quindi vuol dire che non possono mai fare venire la malattia, non possono mai fare venire la meningite. Uccisi significa che dentro non c'è un germe vivo. Gli effetti collaterali che possono dare al massimo possono essere la febbre che viene nello stesso giorno dell'iniezione o nel giorno successivo. Può durare al massimo qualche ora, non più di 24 ore ed è una febbre ben controllata per esempio dal paracetamolo che si usa sempre nei bambini e negli adulti.